Con Red in Blue, le canzoni della nostra vita, si celebrerà la chiusura dei cantieri dell'immaginario 2018, martedì 31 luglio alle ore 21 e 30 nel cortile del palazzo dell'emiciclo. Con la direzione e gli arrangiamenti del maestro Stefano Fonsi, l'orchestra sinfonica abruzzese darà vita a un concerto, Red in Blue, che rappresenta la continua evoluzione della vita artistica di Red Canzian, cantante, compositore, produttore, dal 1973 membro dei POU. Attraverso la musica cantata e strumentale, Red Canzian ripercorrerà i più grandi successi italiani e internazionali che hanno fatto emozionare tre generazioni, passando dagli intramontabili brani degli anni 70 alle canzoni più recenti. Accompagnato da un trio jazz, dall'orchestra sinfonica abruzzese e da una voce femminile d'eccezione, Chiara, la figlia, Red Canzian propone versioni di brani contaminate da linguaggi moderni che spaziano dal pop al jazz. Passando per la musica etnica nelle più ampie accezioni del termine, proposte con linguaggio sempre più attuale per un viaggio musicale dalle mille sfumature. Il bello di questo concerto è che le canzoni rimangono importanti esattamente come erano nel momento in cui sono state scritte e sono uscite sul mercato canzoni anche di 40 o 50 anni fa. Però le abbiamo spogliate e rivestite a modo nostro per dare una rilettura personale e far capire che quando la qualità c'è, quando la musica è buona, in qualsiasi modo tu la proponga, è comunque buona.